Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di BolognaTeatro.it Prima fila, calendario degli spettacoli Ben ritrovati da Carlo Magistretti, alla biblioteca Mario Luzzi di San Pietro in Casale il 21 maggio, parole imbrogliate, lezione spettacolo su Edoardo De Filippo a cura di Massimiliano Civica. Al teatro Arena del Sole il 27 e 28 maggio, Tell Me a Story, esercizi di immaginario per corpi adolescenti, progetto di formazione a cura di balletto civile. Al teatro Deon il 28 e 29 maggio, Sister Act, il musical di Howard Slater-Manken e Stenkelner, con la compagnia La Ragnatela. Al teatro Celebrazioni dal 30 maggio al 1 giugno, Gagman Upgrade, di Econ, Lillo e Greg. E anche quest'anno torniamo al teatro ITC di San Lazzaro per conoscere qualcuno dei tantissimi ragazzi che partecipano al festival delle scuole, il festival del teatro fatto a scuola e portato su un palcoscenico vero qui al teatro ITC di San Lazzaro di Savena. Con me oggi c'è Elisa, una ragazza del Majorana di San Lazzaro. Tra l'altro in questa scuola ci sono due gruppi teatrali, uno che fa teatro in lingua italiana e invece loro che lo fanno in lingua inglese. Quindi complimenti intanto per questo primo step un po' complicato. Raccontaci come è stata la tua esperienza, anche quella dei tuoi amici. Allora io l'anno scorso, due anni fa ormai pre-covid, ho affrontato il percorso in italiano, in lingua italiana e mi sono trovata molto bene comunque a scuola. Per un fattore appunto di covid eccetera ci siamo dovuti interrompere e quest'anno quando ho visto che c'era di nuovo l'opportunità ho voluto tentare di nuovo. Non avevo mai visto a scuola appunto al Majorana l'opzione del teatro in inglese quindi ho deciso di tentare questa nuova esperienza diciamo così e magari appunto fare nuove amicizie come poi è successo e sviluppare un po' anche la lingua inglese appunto tramite la recitazione. Lingua inglese che immagino voi facciate in forma abbastanza importante durante le vostre lezioni a scuola? Allora a scuola secondo me dipende molto dall'indirizzo ad esempio io faccio biotecnologie sanitarie e abbiamo relativamente poche ore di inglese magari alcuni miei compagni del linguistico affrontano molte più ore appunto di lingua inglese però comunque si viene affrontata come materia abbondantemente direi. Senti parliamo dello spettacolo che con la vostra regista Ida Strizzi avete messo in piedi che è una vostra rivisitazione di Nightmare Before Christmas. Sì esatto. Come è? Allora io a parte l'essere un grande amante del film appunto l'ho trovato comunque un'esperienza molto divertente è stato interessante appunto impersonare quei personaggi che vedi soltanto in tv rappresentati appunto sotto forma di cartone e portarli in vita, portarli a teatro è stata un'esperienza molto nuova direi quindi trasformare un cartone in un'opera teatrale è stato un interessante percorso. Insomma tu lo rifaresti? Sì lo rifare molto volentieri. Quanti anni hai? Non te l'abbiamo chiesto? 17 17, sei al quarto anno? Terzo anno Terzo anno, quindi ancora un paio d'anni di teatro a scuola da poter fare. Si vedrà, esatto. E dopo cosa vuoi fare? Lo chiedo sempre a tutti. Ma allora diciamo che ho in progetto di continuare all'università con un indirizzo di medicina eccetera oppure mi piacerebbe focalizzarmi su tutt'altro rispetto appunto all'indirizzo che ho e mi piace molto l'indirizzo della grafica, quindi della comunicazione eccetera. Quindi miro anche soprattutto a quello. Sentiamo anche i suoi colleghi se sono d'accordo con lei, se rifarebbero questa esperienza, se gli è piaciuta. Lo rifare assolutamente perché mi sono divertita veramente molto e mi ha aiutato anche soprattutto ad essere più estroversa, espansiva e sì è una cosa molto positiva. Lo rifare anch'io, mi è piaciuto molto, è stato anche molto divertente e poi ho imparato anche meglio l'inglese. A parte alcune complicanze che abbiamo avuto nel percorso, anch'io lo rifarei tantissimo e oltre ad aiutarmi con la mia autostima e nella vita reale, quindi a me l'inglese piace moltissimo come lingua quindi l'ho trovato anche più liberante piuttosto che fare teatro in italiano. Anch'io lo rifarei perché comunque mi hanno aiutato molto con l'inglese che facevo fatica e mi sono divertita tanto. E anch'io, sì lo rifarei, tra l'altro era già da un po' di anni che volevo rifare teatro, l'avevo fatto un po' di anni fa e poi è una delle mie grandi passioni, quindi mi è piaciuta molto. Allora grazie a questi ragazzi che hanno raccontato la loro esperienza di teatro a scuola che sicuramente sarà una delle esperienze che ricorderanno con più piacere di questo periodo della loro vita. Grazie anche Elisa e i tuoi compagni. Di nuovo a San Lazzaro al Teatro ITC, il Teatro dell'Argine spesso ci ha proposto e abbiamo conosciuto attraverso di loro dei progetti europei che spesso li hanno visti anche capofilo o comunque protagonisti a livello europeo di iniziative che coinvolgono diverse realtà in giro per l'Europa che vengono connesse attraverso questi progetti. Una sorta di connessione per uno scambio, uno scambio teatrale, uno scambio che però ha anche a che fare con dei contenuti. Allora siamo con Michaela Casalboni che del Teatro dell'Argine cura questi progetti e in particolare ce n'è uno nuovo, Michaela, che vorrei che tu ci raccontassi. Si chiama Cree Actors, cioè Creatori, lo potremmo tradurre così. Intanto grazie mille perché ci date sempre voce e ci date modo di raccontare anche quello che avviene qua dentro, in particolare con progetti come questo dove non è previsto che ci sia un pubblico che assista a un evento finale ma è veramente una sessione di scambio e di apprendimento. Cioè proprio ci sono una serie di partner che si ritrovano per imparare gli uni dagli altri. Questo grazie a quel meraviglioso progetto, quel meraviglioso bando europeo che è l'Erasmus Plus che consente per l'appunto a compagnie europee e anche qualche paese terzo di ritrovarsi intorno a temi culturali, delle performing arts eccetera. In particolare i creatori di questo progetto sono partner molto importanti in Europa i capofila sono Border Crossings che ha sede in Irlanda oltre che anche nel Regno Unito poi c'è il Teatro du Soleil francese che non ha bisogno di presentazioni e l'altro, l'ultimo partner è The Fence che è un network internazionale con base in Svezia di drammaturghi. E che cosa ci ritroviamo a fare? Ci ritroviamo sostanzialmente a scambiare pratiche, metodologie, esercizi su come le tre compagnie teatrali fanno creazioni artistiche ovvero sia spettacoli sostanzialmente in contesti interculturali. Cioè sia noi che Border Cross Inchiettate du Soleil siamo abituati a lavorare con pagine multiculturali. Il Soleil ha dentro di sé 80 attori di non mi ricordo più quante nazionalità diverse da tutto il mondo. Border Crossings anche lavora tantissimo sia sul territorio con le comunità straniere diciamo con le quali viene in contatto e noi da sempre anche lavoriamo tantissimo sia sui temi legati alla migrazione eccetera eccetera ma anche con persone, nuovi cittadini e cittadine che vivono accanto a noi. Quindi lo facciamo tutti e tre ma lo facciamo in maniere molto diverse. E allora ecco che ci si ritrova ci siamo già ritrovati in Francia adesso ci ritroviamo qua a San Lazzaro e Bologna poi ci ritroveremo a Dublino per fare cinque giorni di training intensivo nel quale noi raccontiamo e facciamo sperimentare cioè sarà molto pratico come noi portiamo avanti queste creazioni collettive teatrali su temi e con persone provenienti da diverse culture quindi la sfida è quella. I drammaturghi, la rete di drammaturghi svolge funzione di controllo, valutazione, poi raccoglierà tutto insieme perché in coda al progetto pubblicheremo anche un ebook che poi sarà disponibile per chiunque fosse curioso di leggerlo dove appunto questo percorso viene condiviso. Michela mi vengono due domande. La prima è guardando le realtà europee con cui siete in contatto ci sono differenze nel modo in cui le tematiche vengono trattate rispetto proprio al tema della migrazione, delle culture diverse e poi i risultati sono diversi o sono gli stessi anche dal punto di vista dell'impatto sulla società? Questa è una domanda molto interessante e molto giusta. Allora intanto c'è da dire che i partner che noi abbiamo stavolta sono veramente partner di alto livello. Border Crossings per cominciare dai capofila ha per esempio delle intuizioni estremamente innovative rispetto al rapporto con comunità altre. Intanto quando noi in Italia parliamo di comunità altre ci immaginiamo sempre persone che sono appena arrivate che non fanno per esempio gli artisti di mestiere o di professione ma sono persone che possono fare un laboratorio dove il teatro è strumento per uscire anche dalla difficoltà, per la cosiddetta inclusione o integrazione e anche lo è lo può essere. Molte dei progetti che noi facciamo per esempio hanno anche questo versante ma c'è molto di più. C'è un modo per esempio Border Crossings organizza da anni un festival che si chiama Origins dove gli artisti ospiti sono tutti artisti cosiddetti indigeni cioè della comunità Inuit che vive a Londra o a Dublino e quindi sono artisti di professione semplicemente di altre culture oppure il regista Michael Walling spesso dirige compagini giapponesi e dirige opere liriche con protagoniste compagini giapponesi quindi è un'idea estremamente avanzata di come si può lavorare. Nella stessa compagnia però invece c'è anche chi lavora proprio sul campo con ragazzi di strada o appena usciti dal carcere e quindi c'è anche lì un lavoro che ha il confine tra l'educazione, il sociale e l'arte molto simile a quello che facciamo noi. Teatro du Soleil è una compagnia che da 50 anni oramai credo con la direzione di Ariane Nushkin noi abbiamo con noi Vincent Mangadot e Dominique Jambert che sono due degli attori storici della compagnia diciamo tra i giovani ma i più vecchi dei giovani per dire così e che guidano a loro volta compagini e hanno progetti all'interno e anche all'esterno loro portano avanti un lavoro di altissimo livello professionale e loro l'intercultura ce l'hanno dentro la compagnia cioè vanno a lavorare in varie parti del mondo come per esempio l'Afghanistan che è l'antico amore di Ariane Nushkin poi però queste persone arrivano in Francia fanno un cammino professionale imparano il francese e lavorano né più né meno che se fossero attori francesi. Quindi sia l'impatto che il tipo di processi sono molto diversi. Che cosa c'è di simile? Di simile c'è la filosofia che vede il teatro come la quarta lingua in campo la quarta cultura in campo. L'idea che non esista solo il verbale che non esistano solo le parole che quindi le barriere tra culture e linguaggi possano come dire il teatro si fa spazio terzo si fa linguaggio ulteriore con il quale parlarsi. E l'idea che tutto sommato tutta questa differenza non c'è se c'è una diversità è una diversità che può essere fruttuosa diciamo così. L'impatto è molto diverso perché nel nostro caso quello che viene fuori sono tante robe molto diverse a volte spettacoli professionali altre volte semplicemente laboratori con uscite aperte al pubblico a un pubblico magari di amici dove lo scopo principale è il gruppo e non certo l'esito artistico altre volte invece il contrario. E lo stesso direi per border crossing cioè con grande varietà e poi sono stati molto diversi. Parigi, Dublino, Londra e Bologna sono ambiti molto diversi la migrazione per esempio è in stati molto diversi. Le società più e meno multiculturali sono molto diverse da noi e da loro e questo anche conta. Quindi di volta in volta chissà cosa viene fuori. Chiuderei con un'ultima domanda. Il pubblico che volesse vedere qualcosa. Cosa può vedere e quando? Allora il pubblico deve aspettare l'ebook finale che sarà preparato da per l'appunto Jonathan Metz di The Fence insieme ai suoi collaboratori e ovviamente con il contributo nostro e questo sarà disponibile a tutti. L'ebook conterà anche link a immagini, video e informazioni, siti internet eccetera quindi si potranno recuperare in realtà il lavoro dei partner in questo modo qua. La sessione invece di lavoro pratica non è ahimè aperta al pubblico per cui diciamo che passata l'estate vi aggiorneremo su che cosa potremo condividere con voi. Allora ci diamo appuntamento dopo l'estate. Buon lavoro naturalmente anche in questo ennesimo progetto che vi vede protagonisti in Europa e grazie. Grazie, grazie a te sempre. Grazie a te sempre.